Un lungo discorso con molte integrazioni a braccia è quello che il Papa ha rivolto ai delegati della CISL, Confederazione Italiana Sindacati e Lavoratori, ricevuti in Vaticano. Partendo dal titolo del loro congresso per la persona e per il lavoro, Francesco ha sottolineato che il lavoro è disumano senza la persona, che la persona fiorisce nel lavoro, ma è necessario anche il tempo del riposo, che è un bisogno umano. Condannando il lavoro minorile perché il lavoro dei bambini allo studio, ha aggiunto che le pensioni d'oro sono un'offesa al lavoro, non meno grave, delle pensioni troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglianze diventino perenni. È una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti. E allora è urgente un nuovo patto sociale, umano, un nuovo patto sociale per il lavoro, che riduca le ore di lavoro di chi è nell'ultima stagione lavorativa, per creare lavoro per i giovani che hanno il diritto, dovere di lavorare. Due, le sfide epocali alle quali il movimento sindacale è chiamato, la profezia e l'innovazione. Essere profeti significa dare voce a chi non ce l'ha, attenzione, è stato il richiamo del Papa, a non somigliare troppo ai partiti politici, al loro linguaggio, al loro stile. Innovare vuol dire vigilare sui diritti di chi lavora, ma soprattutto su chi è escluso, lottare per chi è nelle periferie esistenziali, sfidando anche quel sentire comune che parla di un sindacato debole perché c'è corruzione. Lottare poi per la donna, che è ancora di seconda classe, guadagna meno ed è più sfruttata. Abitare le periferie, ha concluso il Papa, può diventare una strategia di azione. Non c'è una buona società senza un buon sindacato che rinasca ogni giorno nelle periferie, che trasformi le pietre scartate dell'economia in pietre angolari. Autore dei sfruttori Grazie a tutti.